Ciao a tutti, per la seconda volta un oggetto costruito dagli esseri umani ha lasciato il nostro sistema solare superando l'eliosfera. Stiamo parlando di Voyager 2, che dopo Voyager 1 si è spinto nello spazio interstellare a ben 18 miliardi di chilometri di distanza da noi. La grande bolla magnetica prodotta dal Sole, quella che si chiama appunto eliosfera, contiene buona parte del nostro sistema solare. Il superamento dell'eliosfera, di questa bolla, di questo campo magnetico prodotto dal Sole, fa entrare nell'elio pausa, che è appunto una fascia intermedia, diciamo così, un po' le colonne d'Ercole. Questo è avvenuto il 5 novembre scorso e secondo i ricercatori della NASA, i dati inviati dalla sonda stessa che impiegano circa 16 ore e mezza per raggiungere sulla Terra, per l'enorme distanza. Quindi viaggiando alla velocità della luce, che ricordiamo è 3x10,8 metri al secondo, sono dati che ci fanno capire appunto a che distanza si trova questa sonda. Nel 2012 la sonda Voyager aveva fatto altrettanto. Entrambe le sonde comunque non sono riuscite a lasciare ancora il sistema solare, il cui confine, il confine del sistema solare, è fissato, diciamo, per convenzione oltre alla nube di Hort, che ospita molte polveri, una grande quantità di polveri, detriti spaziali, che sono influenzati dalla gravità del Sole. In parte, diciamo così, i resti del processo di formazione dei pianeti. Comunque, Voyager 2 impiegherà 300 anni, diciamo così, prima di raggiungere il confine del nostro, del sistema diciamo, del sistema solare, quindi, quindi ci vuole ancora un po' di tempo, insomma, per raggiungere questa nube di Hort. Comunque, le sonde Voyager erano, erano progettate, diciamo così, per esplorare Giove e Saturno e pensate che erano previste una vita di, una durata massima di circa 5 anni. Invece, sono nello spazio da 40 anni, 41 anni e quindi ci hanno scoperto, ci hanno permesso di scoprire molte cose interessanti del nostro sistema solare, soprattutto dei confini del nostro sistema solare. Quindi, lunga vita alle sonde Voyager. Chissà se dureranno altri 300, 250 anni circa, 300, per arrivare ai confini proprio. Boh, vedremo, vedremo. Se non vedremo noi, lo vedrà qualcun altro. Nel frattempo, credo che in questi 300 anni l'essere umano farà sicuramente, speriamo, i progressi per riuscire poi a raggiungere, diciamo, attraverso mezzi diversi a muoversi nello spazio. Bene, per questo video è tutto. Iscrivetevi al canale YouTube, attivando la campanella così riuscirete a seguirmi. Riuscirete a seguirmi anche, diciamo, nelle live e potete ricevere delle risposte alle vostre domande in diretta durante le live. E seguitemi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Ciao a tutti!